Sì, sono felicissimo per aver fatto il secondo gol in nazionale, non era facile ribaltare il risultato, siamo contenti della vittoria, quindi va bene così. Speriamo che arrivi anche il primo gol in Serie A, magari già da domenica. Sì, sì, sono entrato perché avevo voglia di giocare, quindi sono entrato 10 minuti, sono sincero, non sono entrato benissimo, non avevo la gamba giusta. Con il trascorso dei minuti ho trovato il giusto impatto e quindi sono contento di aver fatto una buona prestazione, il gol e di aver trovato la vittoria. C'è stato un bel momento durante la partita, tanti bambini che urlavano il nome Italia, 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 voi avete reagito quando siete andati sotto, c'è stata davvero una bella reazione da parte vostra? Sì, i ragazzini, i bambini sono stati spettacolari, è un'emozione immensa vedere questi bambini che ci vengono a vedere, che ci tifano, quindi grazie anche a loro che abbiamo vinto. Non era una giornata semplice questa, anche per voi, giocare una partita così? Noi abbiamo pensato a noi stessi, dovevamo fare una partita come se fosse una partita del giro europeo, quindi l'abbiamo interpretata bene. Ma diciamo che noi quando veniamo nel 21 puntiamo sempre a far bene per poi essere magari convocati in Nazionale A. Noi giovani dobbiamo dimostrare nel nostro club di essere all'altezza per la Nazionale Maggiore e ai vecchi di aiutarci a integrarci nel nuovo gruppo. Grazie.